Stalla a fuoco nell'alta Padovana, l'incendio è divampato domenica in via del Folo a San Martino di Lupari. In poco tempo le fiamme hanno avvolti i capannoni di un'azienda agricola. Sul posto sono intervenute varie squadre dei Vigili del Fuoco, giunte da Cittadella, Castelfranco, Padova e pompieri volontari di Santa Giustina in Colle. Ben 22 operatori con 6 automezzi. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e nemmeno gli animali hanno subito conseguenze. Secondo i primi accertamenti pare che a scatenare la scintilla che ha dato avvio all'incendio sia stato il macchinario per la distribuzione di fieno e foraggio. Nel rogo è andata bruciata anche la copertura in eternite e ora l'aria deve essere bonificata. Distrutti tra 100 metri quadri del cappannone ma la struttura risulta agibile. I Vigili del Fuoco hanno impiegato diverse ore per spegnere e bagnare le rottoballe di fieno, per evitare che qualche piccolo focolaio potesse nuovamente riaccendere le fiamme. Sul posto anche i carabinieri.